Buongiorno ragazzi, in questo video andiamo a svolgere il quesito numero 5 assegnato nella seconda prova dell'esame di stato del 2015. Il testo del quesito è questo, scrivere l'espressione analitica della retta perpendicolare nell'origine al piano x più y meno z uguale a zero. Quindi vedete abbiamo un piano descritto in forma implicita come luogo dei zeri di questa equazione lineare e dobbiamo andare a determinare la retta perpendicolare. Chiaramente qui con retta perpendicolare si intende la retta che segue la direzione ortogonale al piano. Cerchiamo quindi di visualizzare l'esercizio. Prendiamo il grafico cartesiano tridimensionale e visualizziamo il piano x più y meno z uguale a zero. Sarà questo piano passante per l'origine. A questo punto dobbiamo visualizzare il vettore ortogonale, quindi il vettore n che vedete qui rappresentato in blu, che avrà come coordinate i parametri a, b e c dell'equazione del piano. Quindi essendo l'equazione x più y meno z uguale a zero, il vettore che stiamo cercando sarà questo, 1 1 meno 1. Quindi la retta che vogliamo ritrovare è quella che passa per l'origine e segue questa direzione. Quindi 0 0 0 più t volte 1 1 meno 1. E già questa è la descrizione vettoriale della retta richiesta. In forma parametrica si può scrivere, vedete, come x uguale a t, y uguale a t e z uguale a meno t. Ovviamente non ho riportato l'origine, ma ho riscritto semplicemente il t volte direzione ortogonale. Consideriamo quindi questa forma parametrica della retta e proviamo a riportarla in forma implicita, proprio per descrivere la retta in questo modo. L'idea, vedete, è semplicemente quella di andare a prendere x uguale a t, y uguale a t e z uguale a meno t e andare a svolgere il sistema con il metodo di sostituzione, cercando di eliminare il parametro t. In questo esercizio il passaggio è molto semplice, perché vedete x uguale a t, y uguale a t ci porta immediatamente a un'equazione del tipo y uguale a x e risostituendo x uguale a t nell'ultima equazione trovo z uguale a meno x. Le equazioni implicite della retta quindi saranno y uguale a x e z uguale a meno x. Quindi la retta si può vedere come intersezione di questi due piani. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia aiutato a capire come andare a determinare la retta ortogonale a un piano partendo dall'equazione implicita di questo. Continuate a seguire i video di questo canale e iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. A presto!